La comunità religiosa di San Leone Magno ha accolto il nuovo parroco fra Leonardo Civitavecchia che prende il posto di padre Roberto, un momento di preghiera e comunione aperto da Monsignor Francesco Cacucci. Soprattutto nella vita religiosa, padre Leonardo lo sa, nella vita religiosa, quell'espressione che ascolteremo nel Vangelo, dove dopo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare di fronte al Signore, dobbiamo aggiungere siamo servi inutili. Questo credo che viene realizzato in un modo pieno nella vita religiosa, dove la dimensione profonda dell'obbedienza conduce a vedere la nostra vita autenticamente come servizio. Questo è l'augurio che faccio al nuovo parroco, ringraziando il parroco precedente, padre Roberto, che è tanto bene asseminato. Il Vescovo con grande gioia è voluto venire in mezzo a noi proprio per iniziare davvero con gioia questo momento. Mettere Cristo al centro, al di là delle mie povertà, delle mie incapacità. Se proviamo a mettere Cristo al centro io credo che ce la possiamo fare, tutti quanti, in un cammino di comunione, di amore e di fede. È bello quello che ha detto il Vescovo, siamo servi davvero inutili. Però Francesco D'Assisi davvero era un grande santo e alla stessa cosa diceva, noi siamo davvero, ognuno fa la propria parte, lo facciamo con semplicità, siamo servi semplici e con questo spirito che io voglio cercare privilegiando gli ultimi, i poveri, i ragazzi, i bambini, i giovani. Allora con questa esperienza e con tanto entusiasmo nel cuore vorrò cominciare proprio con questo spirito. Anche perché è una parrocchia molto frequentata questa, quindi la aspetterà un gran lavoro. Molto viva, molto viva, soprattutto con grande entusiasmo e sulle ali dell'entusiasmo e dell'amore con il canto, perché per chi mi conosce, io sono da più di 30 anni un musicista, un cantautore, cantando noi pregheremo ancora di più e con grande gioia. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave